ciao a tutti e bentornati con gabriele prg e di king 85 ago quest'oggi ago non è in bagno a far la cacca e lui mi crafterà i processori quelli grezzi in praia gli ho detto come fare il silicon se vi ricordate qui la sabbia trita e fa il silicon qui fa gli scriver press e bla 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 e mentre lui fa crea tutti i vari processori io vado avanti a fare qua le memorie di hard disk ah ragazzi qua ho messo le batterie che avevo craftato nell'altro episodio perché mi sono dimenticato di metterle quindi vanno messe così ci va generatore l'energy acceptor batterie cavi il terminal e m drive quindi adesso creiamo gli altri come si chiama gli altri hard disk ma prima prendiamo un po di fluix dust cioè fluix crystal infatti come vedete le arned perché gli ho fatto imparare questo qui lo mettiamo qua vaffangulago che mi lascia i pezzi di roba perfetto mettiamo questo qui sbam uno stack due stack perfetto quindi adesso ragazzi abbiamo un po di fluix crystal così se ci serve ce l'abbiamo allora iniziamo a fare l'me hard drive hard drive me 1k 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 facciamo questo qua ne facciamo cinque perfetto poi eh papapapam un vetro dovremmo avercelo sbam abbiamo fatto cinque hard disk quindi questo buttiamo via questo buttiamo via un attimo questa cobblestone anzi stone e papapapam buttiamo via un attimo la glowstone ok abbiamo fatto gli hard disk quindi aggiungiamo tutti gli hard disk qui dentro 1 2 3 4 5 perfetto così abbiamo già un bel po di spazio poi mentre ago ci ci fa quei processori poi ne faremo altri nel frattempo io voglio fare l'import per eccolo qua per fare lì lo smistamento chest portarlo nelle me ovviamente quindi questi abbiamo già fatti per l'altro quindi va bene così me import ci manca solo il pistone il pistone si fa così cobblestone ce l'abbiamo vediamo un po no cobblestone ci manca cobblestone perfetto allora cobblestone mi tutta ah guarda è già qua sbam abbiamo uno stack di cobblestone che culo ok dove cazzo l'ha messo ah che cacchio vabbè me l'avrà fregata ago alle spalle eh no non è vero tu sei bociardo eh guardate arrivo qua e non ce l'ho più ma cos'è questo troll vabbè non lo so però vabbè non importa bruciamo questa rifacciamo così rifacciamo così stavolta ne abbiamo 26 vediamo stavolta arriviamo qua oh abbiamo la cobblestone porca vacca ci manca del legno che lo andiamo a prendere qua sbabam bam pigliamo uno stack che tanto ci servirà mi devo liberare un attimino perchè c'è troppa roba questa sega che mi ha tirato ago non mi serve è una sega che mi ha tirato infatti ce lo sapevo eh questo per adesso non ci serve questo per adesso non serve la glowstone non mi serve a posto abbiamo un po' di spazio comunque allora questo qua questo qua abbiamo detto no gli harddisk che cazzo sta facendo quest'altro così 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 sbabam abbiamo fatto 6 pistoni la resina ce l'abbiamo qua dentro papapà dove sei? nooo allora di qua trovata allora facciamo così tanto questo non lo ricordo a memoria ovviamente semplice 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 import 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 andiamo un po' sbabam uno l'abbiamo fatto perchè import ragazzi? perchè dobbiamo importare nel computer quindi dalle chest vanno al computer quindi si chiama import per estrarre dall'ME ci va l'export quindi ME gas fiber facciamo questi qua abbiamo roba? no ci manca quello polverizzato normale che lo abbiamo da qualche parte l'abbiamo finito quindi questo qua ha MC32 lo prendiamo prendiamo anche del vetro che ci serve e sbabam transmutation mettiamoci un po' di ferro mettiamoci questo qua dentro lo mettiamo così e ne prendiamo un po' perfetto abbiamo preso la bellezza di 6 stack 5 allora facciamo così abbiamo detto il glass così dove calcio stanno mi perdo sempre la roba qua qua sbam ok ne abbiamo fatti 24 da 24 adesso me lo so riperso qua questi adesso ne abbiamo volonté e le geste son fait ok uno stack abbondante ci basta per adesso quindi la french la lasciamo qua il pane per adesso non mi serve ok ragazzi quindi adesso dobbiamo portare i cavi al di sotto quindi spacchiamo questo qui ok andiamo sotto ta 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 qua dobbiamo fare una porta e la facciamo qua coincidenza c'è lo spazio perfetto allora da qua facciamo scendere i cavi giù uno non me l'ha preso lassù ok assistenza viene qua wrench sbam più veloce allora li potete spaccare anche col piccone solo che con la wrench li smontate in un attimo ah qua c'è la crafting table c'è la chest quindi facciamo così questi pistoni poi spaccheremo tutto non ci serve a niente anzi no però aspetta invece di fare così questa la lasciamo che smista così yes 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 questo qua facciamo così ok spacchiamo tutto questo che per adesso lasciamo tutti e due gli smistamenti così facciamo prima il carbone per adesso non ci interessa quindi 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 facciamo import ne abbiamo solo uno di import importiamo per adesso cosa importiamo se la mettiamo qua così anzi facciamo così che è meglio ok diamanti 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 amante 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 si se no aspetta importiamo direttamente dalla ender chest e va a fanculo facciamo prima ender chest importata vediamo un po' se l'ho attaccato giusto e intanto sto facendo questi bravissimo però non capisco quale vuole andare in che senso non vuole andare io metto l'oro poi c'è tutto questo il logistic il logistic aspetto aspetta un attimo signori ok mi importa tutto pere fietto quindi togliamo questo qua questo qua col piccone questo qua ma allora facciamo così facciamo 1 2 3 e 4 questo non ci serve ok quindi in teoria sta andando tutto nel computer è un po' lentino ma adesso accelera guardate ok quindi questo qua ci aiuterà molto solo che poi dopo faremo l'export perché l'export dovrà esportarci la la cobblestone per andarla ovviamente a bruciare nell'altro quindi ok qua adesso si è velocizzato abbastanza andiamo a vedere se sta arrivando oh ago guarda un po' fica qua adesso abbiamo tutti oh my god quando ci serve qualcosa oh my dio quindi proviamo a fare così si si vediamo un po' guarda dentro guarda dentro tecnologia avanzata oh finalmente sta arrivando tutto ora possiamo dire query scavo ora possiamo dire query scavo quindi oh ecco lì qua stanno arrivando pian piano perfetto poi lo velocizzeremo ancora ma per adesso andiamo a vedere cosa combina ago no non capisco perché non va qua provate l'hai detto lo metto sotto si sopra processore d'oro ah questo questo qua vai ok e al centro redstone ah ok a posto e così mi fai i processori ok quindi ago sta facendo i processori io mi sono un po' svuotato questa me lo tengo qua questo lo mettiamo qua questo però adesso lo possiamo pure infilare qua quindi perfetto andiamo un po' qua sono vuoto qua a posto perfetto perfetto mi piace assai mi piace quindi ragazzi eh adesso facciamo 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 abbiamo detto allora controlliamo gli hard drive come si stanno riempendo questo qua ha 16 oggetti questo è uno 0 0 0 0 perfetto quindi adesso eh si infatti adesso devo un attimo iniziare a fare le cose un po' in fretta quindi abbiamo fatto l'import dobbiamo fare un altro import un altro import questo è l'export ci servirà dopo per fare la l'M come cacchio si chiama no la la cobblestone scusate cobblestone terra e tutto il resto allora import 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 eccolo qua import dobbiamo fare questi qua ci vuole nether quartz e quello lì perfetto quindi nether quartz ce l'abbiamo da di qua ok 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 andiamo nel computer nether quartz eccolo qua ci serve nether quartz questo ci serve abbiamo detto poi export no import 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 questo qua quella tritata ce l'abbiamo qua perfetto processori d'oro quanti ne hai? adesso due ok dammeli per favore prego prego crash così innanzitutto inizio a fare altri affari allora inizio a fare altri affari è un affarologo ok sbabam li ho fatti poi import 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 i pistoni ce li abbiamo nel computer poi ragazzi dopo farò anche il crafting terminal e quindi crafteremo direttamente da qua quindi 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 abbiamo detto mi son perso cos'era ah il pistone appiccicoso eccoli qua sbabam pistone appiccicoso e via abbiamo detto import 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 importami tutto mi manca pure il ferro merda anche prima di provare mi son svuotato tutto svuotami tutta 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 e main interface no questo qua export e questo qua è finito qua import perfetto ne abbiamo altri quattro quindi possiamo fare così possiamo andare di nuovo giù e gli facciamo importare il resto qui quindi andiamo qua i diamantolli possiamo 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 questa andrà a smestarsi lì quindi facciamo import 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 poi uno due tre e quattro perfetto invece fare importare l'ender chest allora fatemi pensare ender chest perché qua ci importa piano piano iniziamo a importare quello se nel frattempo la cobblestone si importa lì quello va giù però mi importa la cobblestone si facciamo così e però la cobblestone adesso ci va giù si facciamo così per adesso ci importa tutto questa la possiamo anche spostare da qua a sto punto si possiamo rimettere che va da giù ok 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 andiamo a tornare un attimo su ripigliamo dall'affare qua ok il node lo stack e lo speed comunque guardate com'è veloce sta importando tutta la velocità della luce ta 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 così è molto più veloce ragazzi quindi poi faremo la stanza furnace così toglieremo tutti sti tubi della build craft useremo solo l'ME e automatizzeremo tutto con l'ME quindi un passo alla volta riusciremo a fare tutto quindi adesso mi trasformo da piccolo battone anzi no replicatore che mi serve da metterlo sotto così perfetto uno e uno due così fa stack chi è come salta aio 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 no no ok quindi questo import per adesso lo possiamo anche togliere branch sbam sbam perché facendo così facciamo così facciamo così poi lì rimettiamo il quarzo che adesso non ce l'ho e possiamo importare l'altro ok questo cos'era il quarzo questa è la redstone importiamo per adesso il quarzo ok ragazzi quindi le prime ceste che si andranno a smistare sono proprio queste qui e come vedete piano piano si smista tutto quindi una cosa per volta andremo adesso qua quarzo questo qua era del quarzo perfetto anche questo anche questo anche questo qua del nether tutto il quarzo lo faremo andare qua che poi andrà nel computer che diciamo adesso lo faccio ancora smistare così perché devo finire i pezzi del come si chiama i pezzi dell'ame però poi piano piano what the fuck questo è mio quale è tuo quale vuoi ok vorrà per fare ok processori ci ha fatto altri processori possiamo fare altri import comunque ragazzi avete visto il tutto ciò io mi piglio i miei quattro panini che c'ho fame andiamo andiamo ok quindi ragazzi adesso noi continueremo un attimo a fare a sistemare la corrente e l'ame ve l'ho fatta vedere vi ho fatto vedere il piccolo smistamento incasinato che più avanti sistemeremo e niente quindi penso di potervi salutare e tu hai qualcosa di dire Nekonia Tata allora innanzitutto cioè ringrazio Gabriele che mi sta facendo vedere queste cose veramente non le conoscevo comunque ragazzi è lui che mi sta facendo imparare tante di queste cose e per questo dovete mettere il pollice in su a Gabriele nel suo canale metto il link in descrizione dai dai grazie mille oh dai e niente spero che il video questa serie vi stia piacendo perché so che vi piace perché sta andando abbastanza bene non so te Gabriele però si si bene e quindi spero che questa serie questo video vi sia piaciuto e mi raccomando un pollicione in su condividete il video in descrizione vi metto il link di Gabriele come come io faccio con lui eh si e niente da The King il grande Gabriele è tutto che dire di più ciao 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 ciao